Verrà interrotta la distribuzione idrica il 15 e 16 settembre nei comuni di Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Marianopoli e nelle zone di Xirbi e Borgo Petilia per il comune di Caltanissetta. Questi gli aggiornamenti di Caltacqua a seguito della nota di Siciliacque in cui veniva comunicata l'interruzione alle ore 8 del 15 settembre dell'esercizio dell'acquedotto Madoni Est per permettere l'esecuzione di due interventi di manutenzione in Contrada e Rosa a Resuttano e Contrada Santuzza-Laspina a Caltanissetta. Nella nota si precisa inoltre che i lavori di riparazione avranno una durata di circa 18 ore e si prevede infine il ripristino del servizio di fornitura secondo Siciliacque il 16 settembre nel comune di Resuttano entro le ore 12, comune di Santa Caterina Villarmosa e di Caltanissetta, quindi Borgo Petile e Xirbi entro le ore 14, comune di Marianopoli, Consorzio CB4 e Santa Caterina Villarmosa entro le ore 16.